Nel 330 d.C. Costantino decise di trasferire la capitale dell'Impero in Oriente, nell'antica città di Bisanzio, che prese il nome di Costantinopoli. Fu una decisione carica di conseguenze per il futuro dell'Impero. Già Diocleziano aveva creato quattro capitali, una per ogni tetrarca. Si trattava però di residenze imperiali con funzioni amministrative più che di vere capitali. E infatti il cuore storico, politico e culturale dell'Impero batteva ancora a Roma. Costantino invece diede a Costantinopoli tutto il peso e l'importanza della capitale, facendo così capire che il baricentro politico dell'Impero si stava spostando a Oriente. Quali erano le ragioni alla base di tale scelta? In primo luogo motivi di natura strategica e militare. La città, situata sul Bosforo, nel punto di passaggio tra il Mar Nero e il Mar Mediterraneo, permetteva di controllare più agevolmente le vie di transito tra Oriente e Occidente ed era più vicina rispetto a Roma alla frontiera orientale dell'Impero, che così poteva essere meglio sorvegliata. In secondo luogo la scelta di Costantino fu motivata da ragioni politiche. Egli voleva allontanarsi da Roma e dalla sua aristocrazia ormai priva di un vero potere ma ancora in grado di esercitare pressioni e di porre limiti all'attività dell'Imperatore. Infine c'era indubbiamente l'intenzione da parte di Costantino di dar vita a un centro di potere che fosse in linea con i tempi nuovi, una capitale non contaminata dalla presenza diffusa della cultura e della religione pagana.